La Dasti ha comunicato che ci saranno possibili problematiche sui ritiri incombranti e i numeri verde. L'attacco hacker internazionale che ha colpito anche l'Italia lo scorso sabato 4 febbraio compromettendo server di aziende e istituzioni in tutta Europa ha riguardato anche il fornitore di Dasti che custodisce il database delle prenotazioni dei ritiri a domicilio dei rifiuti incombranti. Il numero verde al momento non è attivo per motivi non imputabili all'azienda che gestisce i servizi ambientali in 19 comuni siciliani. I danni sono dovuti infatti all'accaraggio dei server della società EatLab a cui si affida la società Blabs che gestisce alcuni dei servizi informatici di Dasti. Per limitare i disservizi e rimettere subito in moto la macchina Dasti ha predisposto due differenti moduli online disponibili sul portale ufficiale. Il primo modello è riservato a chi ha effettuato la prenotazione fino al 3 febbraio per confermarla o spostarla. Il secondo modulo è dedicato invece alle future prenotazioni per il ritiro di rifiuti incombranti. In entrambi i casi gli utenti verranno ricontattati tramite email o telefono. La Dasti inoltre si è da subito attivata con le amministrazioni comunali con cui collabora per veicolare attraverso i loro canali ufficiali la modalità di contatto attraverso i moduli. Pur non essendo responsabile del disservizio Dasti esprime il suo profondo rammarico a tutti gli utenti contando sulla loro preziosa collaborazione per ricostruire l'agenda andata persa.